E' bello ragazzi, io sono Andrushot e abbiamo quest'esimo vlog, finalmente siamo tornati con i vlog così che sappiate Bella tutti i manzotti, così sapete un po' come va il canale, perché non fa che non faccio un vlog qua bello all'aperto Bella c'è il sole, però non lo vedete perché state guardando di qua, però non lo so, qui ci abbiamo Se volete guardare il sole e non guardare dark basta che lasciate il mi piace, il prossimo vlog parla al sole Siamo all'aperto perché è da tanto che faccio un vlog e abbiamo finito appena a girare il film e quindi facciamo cose Qui c'è Diamond, qui c'è Freeway, come vi avevo detto E non l'avevano visto? No, lui no Esatto Quindi allora, prima diciamo news, spiegazione, un po' di video alcuni giorni sono mancati perché in questo momento ho iniziato a lavorare anche all'editing No, hai iniziato a balzare la scuola No, ho iniziato a lavorare all'editing anche del film e quindi un po' di video non gli edito bene e robe così Quindi alcuni giorni sono mancati i video Cioè la qualità del canale è diventata come quella di Patrick No, Patrick è causa particolare Comunque È causa particolare È causa particolare A proposito di video mancanti e robe così Ieri era... no, 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 no L'altro ieri L'altro ieri Era... L'altro oggi Che è sempre oggi E tu non hai fatto video perché sei un video No, doveva uscire un video, ho le prove, doveva uscire un video, ho le prove, ho fatto gli skin Infatti è uscito il post su Facebook dicendo che alle 15 usciva il video Non ci sono nessuno E poi su questo post c'era scritto che il video non usciva perché appunto era più difficile quindi scherzo non esce nessun video E poi sotto avevo scritto... no, guardate che il video in verità esce il link nei commenti, no? Io avevo messo come sempre il video a caricare e l'avevo programmato per il giorno dopo Solo che poi il giorno dopo per vari problemi che abbiamo fatto un sacco di cose non ho potuto vedere il video come andava La sera mi metto lì e vedo caricamento fallito E dico cazzo E il video non è uscito, infatti è uscito ieri che appunto ieri era sabato Per voi ieri era sabato E... Oggi è sabato Ieri era sabato Ieri è sabato Ieri è sabato Domani è sabato Domani è lunedì No, non dovevo dire Allora tagli sta parte Vabbè Ma da quando il vlog c'è la domenica? Oh mio Dio Da quando li registro sabato Sì La programmazione è cool Esatto Questo video doveva uscire appunto ieri però è uscito Cioè doveva uscire all'altro ieri invece è uscito ieri Quindi diciamo ha fatto un pesce d'aprile occulto robe però Vabbè Comunque adesso è tutto a posto Dovrebbe essere questo Guardiamo di Facebook Cosa c'hai da qui? Sono saliti di follower Adesso Cazzo mi è di Facebook Eh che faccio cosa C'è Anonymous No vabbè quello lì è un profilo segreto Che non posso farsi a termini Ah neanche nel vlog la saga di relazione Non lo so Vedi quello lì è tuo Il tuo? Il tuo? Ragazzi lasciate mi piace E vi diciamo il nuovo profilo di A dieci dai Qual è? Perché siamo poveri Passando ad altro C'è gente dietro la camera che non mi guarda male comunque Sono uscite nuove serie sul canale Che non vi ho notato Nuove serie? No Che non guarderà mai nessuno Non è vero Comunque abbiamo Allora Adesso te lo dico Abbiamo rimpiazzato la OneCraft che presto tornerà Con la Minecraft Vanilla 1.9 con lui Ma chi la vuole? La viva la Lezzo Craft Che uscirà quando Un fotodissimo Quando il barbone Metti un sondaggio Esatto Comunque No 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 La retoscopia solo le Esatto Quindi Un sondaggio Quindi abbiamo la Minecraft Vanilla 1.9 che uscirà il mercoledì al posto della OneCraft Finché non tornerà la OneCraft Poi Torneranno le CTM Perché Lui non vuole più Regirecare le CTM Perché Lui fa schifo Guarda Mi chiamo la Vanilla No perché Scusa la CTM compatri che è fallita Ammettilo è fallita Ci proviamo Comunque tornerà la CTM Quindi finalmente adesso la registreremo E tornerà la CTM Perché ci sta Come abbiamo promesso Con questi due lezzi qua Dobbiamo fare il secondo No Batto l'arena Ti ricordi mica batto l'arena Dove è finito batto l'arena? Cioè gli schiti se lo chiedono La finale di batto l'arena dov'è? Sì che se le chiedono Non è tanto vinto lì Esatto Cioè è già scritto No non è vero Su quello scrive con i diamanti Dai mo' su Ah 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 Vabbè Comunque Uscirà anche tipo settimana prossima Cosa occulta Batto l'arena Iscrivetevi al mio canale Sì con i suoi bei 4 video Scrivetevi al suo canale Link in descrizione Esatto Comunque Ragazzi non ci ho sbattito Guardatelo che stacca la panchina Mamma mia Vandalo Zingaro Per Arminab Demons Compilation Che è una serie che vi piace molto Oltre alle classi che ci facciamo noi con le Arminab Consigliatecelo anche voi nei commenti Come già ha fatto alcune gente Comunque adesso ve lo dico Consigliateci tutte le classi di Arminab nei commenti Così che le facciamo in Arminab Ovviamente mostriamo il vostro commento E si fa Guarda che si spacca la panchina Patrick vi invito a visitare il nuovo sito di Gamezone Che Gamezone Che Gamezone sarebbe Che Gamezone sarebbe Il gruppo tra me Diamonds e Patrick Entrate nel nostro clan Aspetta Sì abbiamo anche il clan Su Crash Royale Gamezone Entrate Quello con la freccetta Guarda mamma Aspetta che entro Patrick ha fatto un sito di Gamezone In cui ci sarà un po' la nostra storia Un po' di cose E Guarda È giù in descrizione Oppure sarà qua da qualche parte E Quindi guardateci Fate cose E oltre al sito di Gamezone Noi Come sapete Per parlarci Quando facciamo cose Usiamo TeamSpeak Visto che Spammiamo TeamSpeak Spammiamo il nostro TeamSpeak Entrate Comunque vi invitiamo Visto che vi abbia fatto Ma non si vedono Anche per parlare Con i nostri schizzi Con i nostri schizzi Con gli schizzi Quanto è stato Parliamo con gli schizzi Per parlare anche Con i nostri iscritti Quindi Entrateci Cioè il nome Il nome del link Del team Di TeamSpeak È Suggi occhiali di Dark Sì esatto E questo per i miei occhiali Che mi sembra Cos'è Com'è che era Tipo Gamezone Cerca Comunque Entrateci Perché ci sta E adesso Siamo finalmente arrivati Al momento Che tutti Aspettavate Grazie Adesso Hashtagrivelazioni Regia Regia Magari Una color correction Un po' Che c'è E magari Una musica Anche un po' Shish E la prima rivelazione È appunto Un nuovo profilo di Dark Che è Strocco Che ha usato Per prendere per il culo I posto della Ma veramente schifo Il cazzo Sorry Io odiamo tutti Poi La seconda rivelazione È No No Falo te Sto andando Sto andando Sto andando Dai No Non dico Scemo Sopra Sopra Da dentro Poi adesso andrà male Porco che rane Coglione Ritardo Sei un cazzo di ritardo Allora Praticamente Voi dovete sapere Di Dark Che quando era un bambino Si metteva delle camicie Orribili Che tipo Voi non vedrete mai Cioè Questa foto Che gira Su Facebook Non è vero Gira sul tuo telefono Gira sul mio telefono Metti la Metti la sulla sua faccia No Non la metterai Non la metterai Perché sennò Tipo Esplode Dislike Esplode internet Proprio Boom È tipo C'è questa persona Occulta Che è grassa Bassa Ciccio merenda 2 No no Ciccio merenda Versione 1 Ciccio merenda beta Ciccio merenda beta Giusto Lui è l'alpha Aspettate un attimo Perché Ci vogliono dei cambiamenti Bene Con la magia Delle magie Delle magie Delle magie Ci siamo spostati Abbiamo un'altra rivelazione Infatti per questo Che ci siamo spostati Voi dovete andare a vedere Il canale di Samuel Barocco Quello con la S copiata da Google Con i neon Perché praticamente Noi siamo andati a cercare S La gelo La gelo sbloccata Oh my god Allora io ho sbloccato la veleno Dettaglio Praticamente un canale Scraus che copia cose da Google Come l'immagine di profilo Che non l'ha fatta Però È tipo I pro quick Con Con i bot Con i locus Sono fatti con i bot Modalità minchione Qui ci saranno Adesso tutti i commenti Che io Con il profilo di Dark Il mio Quello di Eiderline E anche Quello di Anche Patrick E anche Patrick E Alex01 Alex01 E anche Alex01 Al cui Sanno censurati Perché sono troppo violenti E ora andiamo a spaccare la panca E niente ragazzi Per l'ultimo Instagram di relazioni Dobbiamo muoverci Quindi Adesso staremo lì Forse ci sarà viaggio Forse no Magari lo mettiamo No niente viaggio Dobbiamo teletrasportarci Con la magia Siamo qua Ci siamo teletrasportati Come appunto Vi ricordavate E adesso siamo Dove siamo È diventata notte Poi dopo diventerà ancora giorno Perché io prevedo già il futuro Di quando ci teletrasporteremo Indietro nel tempo E siamo sempre noi tre Adesso come Io Brazo e Brazo Esatto E Friwa Dovevamo andare Qua c'è Dia Friwa E Darka E Darka Ma Fai come no Vabbè E tipo Cannabis Dovevamo andare Cannabis Ah Cannabis Giustamente E Vabbè comunque Da Staggrips Non ci siamo andati Perché Lui Non so Perché non ci siamo andati Da Quello che tu avevi detto Perché Ah da ciccio merenda Versione 2 Versione beta No Versione beta Esatto Perché Eh boh Non lo so L'alfa del ciccio merenda Eh infatti Non mi ispirava Eh non ci ispirava Cioè noi abbiamo una beringa Esatto Quindi Quindi alla fine Siamo Abbiamo optato Per teletrasportarci A stanotte Quindi Ci sta Esatto Quindi adesso Andremo a fare bordello Oh vabbè Aspetta Fra Ci arriviamo a riteleportare A oggi Boom Mamma mia Sto cazzo di teletrasporto Siamo tornati Adesso facciamo il Q&A Adesso Facciamo il Q&A Come appunto Mi abbiamo detto Un attimo Che si apre qua Che qui Siamo in mezzo Al nulla C'è un commento Di Patrick Che ci dice Ah ah L'uomo delle nevi È tornato Nello scorso vlog Perché appunto Lui l'uomo delle nevi E va Guarda il vlog Che capite bene Comunque Abbiamo Diamonds Che dice Che la nuova intro Del canale È figa E Non è vero Comunque ragazzi Passiamo al prossimo commento C'è Sparkblade Che ci dice E se ti posso dare un consiglio Nella 1.9 Devi colpire Con un ritmo lento Riquilibrato Dato che Hanno delle potenze a tollerne Con questo consiglio D'attacchi Ti feceranno molti più danno Grazie Lo sapevo Infatti la 1.9 Fa schifo appunto Per questo Riva Lascio Esatto No Lascia picciò Anche più lenta Però La 1.9 Fa comunque schifo Comunque grazie Il consiglio Anche se lo sapevo già Comunque C'è Gabri HD Che ci dice Ciao bro Sei molto bravo E secondo me Chiama Gabri HD Per l'impegno Che metti Grazie per I grazie Grazie per i grazie Grazie C'è l'ora In finalità Abbiamo nuova arma consigliata Che arriverà nel prossimo Arminab da Luca Manfred Abbiamo il Vesper Consiglianziatore Con mirino ricognizione E fuoco rapido E come secondaria Con risposta eccessiva Quindi avere una seconda Una secondaria Attenzione Il Weevil No Il VMP Varix Fuoco rapido E ci avverte Che volevano Santi Quindi attenzione Guardate il video Che uscirà E poi abbiamo Poi abbiamo Leonardo Bonpoco Che non sappiamo Chi è assolutamente Non dire il cognome Che ci dice Altro che kebab Nel video In uno dei video Più belli Di Alaminab Che è appunto Dice Daimonzi Che fa il kebabaro Kebab 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 Abbiamo Patrick Che spamma Il sito di Gamezone Come abbiamo detto prima Che appunto Lo spamma Faccio il commento Noi ci vediamo Nella Aspetta Ma lei non ha detto niente Per tutto Sì Ma presenza Lui è il prodotto Sponsorizza il prodotto Fai via Il prodotto Della twist lock Il suo prodotto No twist lock È il coso per girare No 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 È la twist lock Vuol dire girare per bloccare Twist lock Ma sei proprio pirwa Vabbè Questo vlog è finito E niente Lasciate like Iscrivetevi Vedete il prossimo video Mi raccomando Commentate Qui da Darkshadow Diamond Freewave E altre gente Occulti dietro la camera È tutto E bella ragazzi E bella a tutti ragazzi Io sono Sam E schizzatevi al canale